Ben ritrovati, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, alzate la campanella e mettete like ai miei contenuti. Buon inizio di settimana a tutti, una settimana che porterà alla sfida di domenica, alle 20.45, all'Allianz Stadium. Dalla parte i padroni di casa della Juventus, dall'altra gli ospiti il Bologna di Tiago Motta. L'interrogativo comune è da dove si riparte? Perché, onestamente, parliamo di un periodo all'insegna della depressione calcistica, per chi sostiene i colori bianconeri, lo specifico, quelli della Juventus, perché poi ci sono anche i colori bianconeri che saranno andando a sprombattuto, basti pensare al cammino incredibile in questa via di stagione dell'Udinese, ma chi tifa Juventus sta, calcisticamente parlando, soffrendo. E cerca di analizzare totalmente la situazione, che è molto, molto problematica, complicata, e non è detto che si risolva, poi non dobbiamo prenderci in giro. In questo momento, immaginare che tutto ad un tratto la Juve possa cambiare il rendimento appartiene alla più pura utopia. Affermo restando che l'organico ha dei valori, sicuramente inespressi, perché magari non sarà una squadra che potrà lottare per lo scudetto, magari sarà una squadra questa che non può nemmeno arrivare agli ottavi di Champions, capiremo che annin facendo se la Juve riuscirà a compiere un miracolo, classifica la mano, o se invece andrà in Europa League, o se invece rimarrà totalmente a bocca asciutta, però sicuramente rispetto a questo view horror, pretendere, ribadisco, pretendere che la Juventus performi in tutt'altra maniera è la più pura, o dovrebbe essere la più pura, ovvietà. La palla passa a Max Allegri, che ha incassato la fiducia della Juve, non la definirei una fiducia incondizionata, definirei una fiducia relegata poi a ciò che la Juve riuscirà a fare da qui alla pausa mondiale, perché là ci sarà un lasso di tempo significativo anche per prendere delle decisioni drastiche, ci saranno più partite per analizzare quella che sarà stata la prima parte di questa stagione, ma diciamo che i bianconeri, il club bianconero, ha optato per non mettere alla porta Max Allegri dopo l'umiliante sconfitta contro il Monza e di conseguenza ora il tecnico è chiamato a dare un segnale, a dare un segnale, a darsi un segnale, a cercare di riportare la Juve sulla retta via, che è quella della dignità. Io continuo a battere su questo tasto, continuo a citare questa parola, ci sta, l'ho già detto ieri, che nel calcio non si vinca, ma mai perdere la dignità. Perdere anche i risultati può succedere, perché non sempre vinci tu, ma la dignità deve rimanere ben salda. E la Juve in questa prima parte di stagione invece la dignità l'ha persa in tutte le salde, in tutte, veramente tutte, da tutti i punti di vista sta persa questa dignità. Riassunto delle puntate precedenti. La Juve non cambia Allegri, ma responsabilizza delle persone all'interno del suo staff. Basti pensare al professore Andrini, che è dotato, ha già un potere sulla supervisione della performance del calciatore, non solo legato alla prima squadra, ma dalle prime squadre, perché poi dobbiamo considerare anche Under 23 e Juventus Women, passando per il settore giovanili. Vedremo se la figura di Andrini, che ha una supervisione anche da punto di vista atletico sul lavoro del professor Folletti, vedremo quindi se da questo punto di vista cambierà un pochettino la musica, perché diciamo che in questa prima parte di stagione la Juve ha già pagato a carissimo prezzo gli infortuni, dobbiamo togliere da questo discorso Federico Chiesa e Paul Pogba, perché non sono di nautura, entrambi infortuni muscolare, quindi là è solamente sfiga, però quelli che si sono fatti male all'adduttore, al Paul Paccio, sono in tantissimi, hanno pregiudicato poi anche l'ascesa di questa Juventus al netto delle scelte errate di Max Allegri, che comunque non ha potuto contare sulla bontà di tutte le effettive disposizioni. Io quando, prima della partita con il Monza, chiedo in conferenza ad Allegri ma perché non puntare su un sistema di gioco base e portarlo avanti, la risposta è stata perché se non hai il giocatore a disposizione, perché senza Di Maria un certo tipo di sistema non lo puoi sviluppare e non si può dare continuità, quindi questo è il pensiero del tecnico livornese, poi è ovvio che se i giocatori non ci sono è perché si stanno infortunando con una certa continuità e quindi è un problema nel problema, cioè il fatto che manchino e che non si possa dare continuità al sistema di gioco non è un attenuante, è un aggravante e là bisogna fare delle profonde riflessioni e credo che la Juventus abbia deciso, non credo, la Juve ha deciso da quello che so di dare maggiori poteri a questo ruolo di supervisore di Andreini che quindi in prima persona sui carichi di lavoro e quant'altro ora metterà il suo parere, è un professore molto molto rispettato in tutto il suo settore, nell'ambiente, uomo di fiducia di Roberto Donadoni, ha fatto anche l'esperienza quindi in Cina, insomma il professore Andreini ora inevitabilmente dovrà diciamo subarcarsi un pochettino il lavoro per fare in modo che la Juventus da quel punto di vista cambi il rendimento. Poi c'è chi dice che anche lo stesso Paolo Bianco, uomo arrivato in estate per infoltire lo staff tecnico di Allegri possa prendere, non dico potere decisionale perché quello spetta l'allenatore che era e resta e resterà fin quando sarà in carica come giusto che sia Allegri il responsabile della prima squadra quindi si assume le responsabilità del rendimento della Juve. Però evidentemente se la Juve in estate, intesa come società, ha deciso di prendere Bianco che proviene da tutt'altra estrazione perché proviene anche diciamo da la scuola dei zerbi quindi la scuola dei giochisti e non quella dei risultatisti sebbene che poi penso che sia molto banale questo doppio termine perché si minimizza quindi sia il lavoro dei giochisti che dei risultatisti ma questo è un altro tipo di discorso sicuramente però se la Juve ha aperto le porte alla continassa a Bianco è perché riteneva che un profilo con il suo spessore Bianco che si occupa principalmente della parte difensiva possa comportare una miglioria a livello staff tecnico poi quando arrivi uno staff tecnico ci sono le gerarchie devi saperti ambientare, devi saperti imporre e penso che la Juve immagino che come società ora punti a fare in modo che l'esperienza di Bianco possa aiutare lo stesso Allegri magari a sviluppare qualche altra idea per uscire davvero dalla situazione, da un quadro tattico che lo definirei onestamente non più preoccupante perché siamo ben oltre la preoccupazione decidete voi come definire questo quadro tattico visto finora bisogna andare avanti io l'ho detto ieri non si può dare per conclusa una stagione a settembre a parte che è anacronistico ma poi è totalmente fuori concetto dal mondo Juve è fuori luogo, si è deciso di non esonerare Allegri perfetto, va vi a trovare la soluzione per uscire da questa situazione è bene che le persone che operano in Juventus abbiano quel tipo di senso di appartenenza remare, non dico che non lo stiamo facendo questo lo trovo molto più preoccupante perché in molti nei giorni scorsi mi hanno detto ma si vedeva che a Monza la squadra giocasse contro Allegri ma mai nella vita, magari fosse stato così avremmo avuto una giustificazione quantomeno logica ma la bruttezza di questo periodo e soprattutto il quadro totalmente nero viene anche valorizzato dal fatto che questa sia una squadra che si stia applicando seguendo l'allenatore ma non trovando il benché minimo risultato quindi qua parliamo anche di una squadra che quotidianamente profonde professionalità che cerca di fare quello che vuole che l'allenatore cerca di proporre alla sua squadra ma non stiamo parlando di una squadra che sta giocando contro l'allenatore magari fosse così perché si risolverebbe il problema alla radice e si andrebbe avanti qui il problema è ben più ampio è ben più profondo però in qualche modo questi che già ci sono allenatore, quindi staff tecnico e calciatori sono chiamati ad andare in un'unica direzione per uscire da queste sabbiamobili e per ridare dignità ai tifosi giuventini mi raccomando eh ragazzi